Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del ferrino dry hike 40 più 5, ovvero lo zaino con membrana impermeabile di casa ferrino. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito con qualche caratteristica fornita dalla casa per questo ferrino dry hike. Per quanto riguarda lo schienale troviamo un sistema hollow back system di ferrino. Lo zaino pesa 1,2 kg irriducibili a 950 g, vi faccio vedere come. E poi come dicevo ha una membrana impermeabile, membrana H-Dry con 10.000 colonne d'acqua. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale per questo dry hike. Come vi dicevo ha un sistema hollow back system di ferrino che abbiamo già visto su altri tipi di zaino. Devo dire che è un sistema che mi ha sempre convinto, un sistema che va a contatto con la schiena ma con dei canali d'aria che vanno comunque a far uscire il calore e il sudore. Devo dire che nel comparto degli schienali che vanno a diretto contatto con la schiena lui è uno dei più traspiranti, davvero fatto molto molto bene. Ed essendo poi a contatto con la schiena in sé lo zaino è anche molto stabile, riusciamo a camminarci senza che questo ci sballonzoli a destra e sinistra. Quindi veramente un ottimo schienale. Questo sistema poi viene ripreso anche sulla fascia lombare. Infatti troviamo una fascia lombare bella imbottita, bella soffice che ci permette di portare all'interno di questo zaino fino a una dozzina, 12 kg. Quindi devo dire un'ottima fascia lombare. Si chiude nella parte anteriore con una cinghia che anche a pieno carico non dà problemi. E troviamo poi sulla fascia lombare due tasche, una a destra e una a sinistra, chiuse da zip in cui possiamo andare a trasportare degli oggetti se vogliamo, possiamo trasportare il nostro telefono eccetera. Infine per quanto riguarda gli spallacci devo dire che sono veramente fatti bene. Una buona schiuma, molto imbottita, danno veramente un ottimo comfort. Anche a pieno carico assicurano davvero un'ottima distribuzione del peso. Devo dire che gli spallacci forse è uno dei migliori che ho mai provato su degli zaini. E poi naturalmente sugli spallacci è presente anche la cinghia pettorale per andare a scaricare un pochino il peso e dove troviamo anche un fischietto. Passiamo dunque alla parte posteriore di questo dry hike iniziando a vederne i lati. Vi preannuncio che i lati sono simmetrici quindi ne vediamo solamente uno. Sulla parte laterale cosa troviamo? Due semplici cinghie da andare a tirare per poter comprimere lo zaino o volendo possiamo utilizzarlo anche per portare qualcosa di lungo nella parte laterale. Cosa molto apprezzata poi è che si possono aprire entrambe le cinghie perché entrambe hanno la clip. E per trasportare degli oggetti o la nostra borraccia troviamo delle tasche a soffietto chiuse. Questo ci permette di poter portare la borraccia completamente chiusa, tenerla lontano anche dagli agenti atmosferici e in generale ci permette di poter portare comunque degli oggetti non troppo lunghi. Per intenderci magari un cavalletto fotografico è un pochino più difficile portarlo all'interno di questo zaino. Ma arrivando a parlare della caratteristica principale di questo zaino come vi dicevo è impermeabile. La parte impermeabile con membrana H-Dry, io l'ho provata sotto la pioggia e vi assicuro che all'interno davvero non si bagna nulla, c'è però da fare una piccola precisazione. La parte impermeabile dove è presente la membrana H-Dry è la sacca principale e il cappuccio. Quelle che sono le tasche a soffietto laterali e le tasche sulla fascia lombare non hanno membrana H-Dry. Sono comunque un pochino idrorepellenti perché comunque questo zaino è fatto con un nylon ripstop 210D, quindi comunque un po' l'acqua la tengono fuori. Ma se doveste prendere una pioggia veramente molto forte vi assicuro che quello che andate a mettere in queste tasche si andrà a bagnare. Parlando di parte posteriore vera e propria, beh sicuramente salta subito all'occhio questa enorme cerniera che ci permette di aprire lo zaino a borsone. Troviamo una cerniera IKK, quindi impermeabile che non fa entrare l'acqua, che presenta anche due cursori in modo tale che noi possiamo aprire la cerniera sia dal basso verso l'alto sia dall'alto verso il basso nel caso in cui dovessimo aver fuori qualche oggetto. Dico se dovessimo aver fuori qualche oggetto perché in questo zaino sono date in dotazione anche le cinghie per poter portare nella parte esterna delle ciaspole, degli sci, degli snowboard e queste cinghie possono essere utilizzate anche per portare nella parte esterna bassa una tenda o un materassino. Inoltre nella parte posteriore possiamo portare i bastoncini o sdoppiati uno a destra e uno a sinistra oppure due bastoncini e una piccozza o addirittura anche due piccozze, diciamo abbastanza polivalente. E in conclusione sempre nella parte posteriore troviamo anche due desi chain in cui possiamo attaccare del materiale ed è compatibile anche con il porta casco di ferrino per poter portare all'esterno anche il casco. Per quanto riguarda la chiusura superiore questa è Roll Top ovvero troviamo una chiusura che è alla fine dove si presentano i 5 litri in più ci permette di poter andare a schiacciare un pochino lo zaino per far sì di andare a comprimerlo se lo utilizziamo completamente pieno. Questa chiusura poi ci permette anche di isolarlo dal punto di vista dell'acqua ma naturalmente per quanto riguarda l'acqua nella parte superiore della chiusura troviamo una cerniera anch'essa IKK che svolge un ottimo lavoro e non si bagna nel momento in cui andiamo a prendere l'acqua. Per quanto riguarda il cappuccio invece troviamo un cappuccio molto classico troviamo una sola tasca nella parte esterna comunque abbastanza grossa e come vi dicevo il cappuccio è removibile ci permette di togliere un 150 200 grammi e portare lo zaino al di sotto del chilo di peso. Una volta che andremo a rimuovere il cappuccio la chiusura superiore Roll Top farà sì che non entri appunto l'acqua e sempre nella parte superiore troviamo anche il riflettore Recco per la nostra sicurezza. Per quanto riguarda il comparto acqua qui possiamo portare due borracce nella parte esterna nelle tasche a soffietto ci sono delle borracce generalmente da un litro possiamo portare nella parte interna una sacca idrica fino a due litri con la possibilità di far uscire nella prolunga sul davanti per bere e poi come vi dicevo è impermeabile quindi naturalmente è impermeabile di su e non troviamo un rain cover. Parlando un attimo dei materiali come vi dicevo nylon 210 ripstop un nylon bello robusto un nylon che sicuramente farà durare tanto questo zaino un nylon col quale davvero noi possiamo anche strusciare sulle rocce con questo zaino senza aver nessun problema quindi dal punto di vista dei materiali devo dire un ottimo zaino. Arrivando dunque alle conclusioni per questo ferrino dry eye che iniziamo dal prezzo viene venduto sul sito ufficiale ferrino 270 euro online si trova sui 200 210 euro. Ve lo consiglio sì sì perché secondo me è davvero un ottimo zaino la membrana edge dry è un plus aggiunto non da poco quello che naturalmente dipende è come utilizzate voi lo zaino se siete persone che se prevedono pioggia preferite restarvene a casa allora questo zaino non avrà senso comprarlo. Se siete persone come me che magari vanno in montagna invece che ci sia il sole che ci sia l'acqua indifferentemente dal meteo allora può aver senso utilizzarlo. È uno zaino che io non vi consiglierei come zaino principale ma come zaino addizionale davvero se dovete andare a fare qualcosa sotto l'acqua in cui è previsto che ci possa essere delle precipitazioni e via dicendo. Se dovete comprare come primo zaino e unico zaino secondo me non è la scelta ideale meglio andare su qualche modello con ring cover anche sempre di casa ferrino. E detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauriente e esastrivo anche per questa recensione venga salvaguardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!